Sono dati che fanno riflettere quelli che emergono dalle ultime attività ispettive della Guardia di Finanza di Terni, ogni 5 acquisti uno al senza scontrino. Nel dettaglio gli uomini della Compagnia di Terni e della Tenenza di Orvieto hanno effettuato 51 controlli tra il 25 aprile e il 1 maggio in pizzerie, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento, parrucchieri, attività di vendita all'ingrosso di materiali edili e negozi di informatica. Le sanzioni amministrative combinate rappresentano il 20% delle attività controllate nel totale per mancata emissione di scontrino fiscale o per un semplice caffè oppure nei casi più eclatanti per cene o acquisti che superano addirittura i 100 euro. Al termine dei controlli le fiamme gialle del comprensorio ternano hanno quindi rinnovato alla cittadinanza l'appello di collaborare con le forze dell'ordine invitando chiunque a segnalare casi di mancata emissione dello scontrino fiscale.